Continuano le polemiche a seguito della bocciatura da parte del Consiglio regionale della proposta per l'introduzione del biglietto unico nella provincia di Teramo. Una decisione che ha scaturito polemiche sia all'interno dell'emiciclo sia sul territorio terramano. Ora di intervenire sulla questione è stato il sindaco Gianguido D'Alberto, nonché presidente del Lancia Abruzzo. Una scelta che va assolutamente ripensata, non è accettabile dire un no assoluto ad una proposta che viene dai territori, che viene dai sindacati, viene dalle comunità. Lo stesso Consiglio comunale di Teramo si è espresso all'unanimità quindi con il sindaco, l'amministrazione, la maggioranza e l'opposizione su una richiesta che è una richiesta finalizzata appunto a tutelare gli interessi di una parte del territorio regionale che in questo momento è fortemente penalizzata sul tema del trasporto pubblico. Non è assolutamente impossibile mettere in campo il biglietto unico, è certo, è ovvio, è più complesso rispetto all'area metropolitana dove abbiamo meno gestori e c'è una definizione territoriale diversa, ma possiamo e dobbiamo assolutamente realizzarlo anche nel territorio provinciale. Una soluzione già attuata da tempo nell'area metropolitana di Chieti Pescara che consente con un solo ticket a prezzo agevolato di muoversi con più mezzi pubblici in un'area geografica precisa. Come sindaco di Teramo, ma anche nel mio ruolo di sindaco della città capoluogo di un'area vasta e anche di Presidente dell'Anci per una riflessione più ampia a livello regionale, chiedo che la Regione Abruzzo attivi immediatamente un tavolo, daremo un supporto, una mano, dobbiamo definire l'area territoriale interessata, convocare appunto tutti i gestori del trasporto pubblico e concordare le modalità di attuazione di un sistema che è finalizzato anche e soprattutto a ridurre le distanze, migliorare la qualità della vita dei cittadini, evitare la sofferenza di quelle comunità che in questo momento, soprattutto per le aree interne, trovano difficoltà in termini anche di costi operativi, appunto dei biglietti del trasporto pubblico inteso in senso generale e vengono quindi fortemente penalizzati. Quindi apriamo subito, come abbiamo chiesto già da diverso tempo e torniamo a chiedere ora, perché il no e la preclusione non sono accettabili, ma con la massima disponibilità, con tutte le forze del Consiglio regionale, tutti i sindaci del territorio, un tavolo istituzionale per l'attivazione del biglietto unico. Inoltre con il passare dei giorni si allarga il fronte degli scontenti, gli ultimi a entrare nella bagarre politica e l'unione degli universitari di Teramo, che da tempo chiede l'inserimento del biglietto unico per permettere a studenti e lavoratori di spostarsi con più facilità ad un prezzo scontato sul territorio locale.